benvenuti oggi ho un flash fiction usando queste richieste di scrittura donna rotta costa la mente di un cane il cane guardava la lampada rotta per terra aveva un grande problema era sempre lo stesso tutte le cose che succedevano quando i suoi genitori umani erano fuori di casa erano colpa sua tutte non era giusto è vero che la lampada della donna sua madre è caduta quando lui ha provato a raggiungere i biscotti sul tavolo ma un cane non ha la capacità di giudicare le conseguenze di un'azione il suo sguardo ha rivolto alla finestra voleva dimenticare i suoi pensieri negativi la costa lo chiamava la spiaggia lo salutava e il mare ondeggiava in modo normale la chiave era nella serratura della porta che dava sul giardino dovrebbe essere possibile girarla cosa potrebbe accadere è tutto per oggi alla prossima